Benvenuti all'angolo del libro di Valsugana Web TV. Oggi vorrei presentarvi il libro di Beppi Magrina, L'Ortigara e i suoi alpini, edito da Nuovi Sentieri. L'autore analizza la salita dell'Ortigara da parte degli alpini, soffermandosi con una serie di eventi cronologici sulle battaglie dell'Ortigara e dedica buona parte del libro ai vari battaglioni che sono intervenuti. Il libro è corredato da alcune fotografie dell'epoca ed alcune fotografie recenti che riguardano gli alpini. Lo trovate, se volete, presso la libreria Il Ponte di Borgo Valsugana.